In questo video parleremo della transverberazione di Padre Pio, ma innanzitutto vediamo cos'è la transverberazione. Si tratta di un particolare fenomeno religioso mistico che consiste in una ferita prodotta nell'anima e che si manifesta con una piaga fatta al cuore o al costato oppure a tutti e due. E condizione fondamentale necessaria affinché ciò avvenga è che il soggetto che la sperimenta viva un grande amore per Dio, un po' anzi totalmente quello che è successo a Padre Pio. Vediamo come Padre Pio stesso racconta la sua transverberazione, avvenuta in data 5 agosto del 1918. Ecco cosa dice Padre Pio, in forza di questa grande obbedienza io mi induco a manifestarvi ciò che avvenne in me il giorno 5, quando era sera, a tutto il 6 del corrente mese. Io non valgo a dirvi ciò che avvenne in questo periodo di superlativo martirio, e ne stavo confessando ai nostri ragazzi la sera del 5, quando di colpo ebbe una paura estrema fu riempito di un estremo terrore, alla vista di un celeste personaggio che mi si presentò dinanzi all'occhio dell'intelligenza. Aveva in mano come una specie di arnese, era simile a una lunghissima lamina di ferro, con una punta ben affilata, e che mi sembrava che da essa uscisse del fuoco. Vedere tutto questo ed osservare questo detto personaggio scagliare con tutta violenza, quell'arnese nell'anima mia, fu tutta una cosa sola. A stento emisi un lamento, mi sentivo morire, disse al ragazzo che stavo confessando che poteva andare perché mi sentivo poco bene e non avevo la forza di continuare con la confessione. Questo martirio durò senza pause, senza interruzione, fino al mattino del giorno 7. Cosa io soffri in questo periodo disilluttuoso, io non so dirlo. Perfino le viscere vedevo che mi si venivano strappate e stiracchiate dietro di quell'arnese, ed il tutto era messo a ferro e a fuoco. Da quel giorno in qua io sono stato ferito a morte. Sento nel più intimo dell'anima una ferita che è sempre aperta e mi fa spasimare assiduamente. Non l'è questa una nuova punizione inflittami dalla giustizia divina? Giudicatelo voi quanta verità sia contenuta in questo e se io non ho tutte le ragioni di temere e di essere in un'estrema angoscia. Povero padre Pio quanto dolore ha passato per la nostra salvezza, meno male che Gesù e l'angelo custode li sono sempre stati accanto. Per questo dobbiamo sempre essere felici perché anche nei momenti difficili padre Pio ce l'ha insegnato, Gesù è accanto a noi. Grazie per aver ascoltato questo video e alla prossima!